come ti chiami? Pietro, Fulvio, Domenico. Quanti anni hai? 11, 9 e mezzo, 7, 8. Che vuoi fare da grande? Il pompiere, il cacciatore, il patriciere, il poliziotto, il pizzaiolo. Perché? Perché voglio costruire la casa dei miei sogni. Perché mi piace inguaggiare, salvo le persone, che non mi ha capito. E lei è Martina. Che ti piace di lei? Gli occhi mi piacciono. Le sue scarpe, le sue panni. Le occhi, le sue capi. Sangilità sulle capi. Tutto. Sarebbe la bambina. Si tancerei. E ora, falle una carezza. Falle una boccaccia. E ora, dalle uno schiaffo. Uno schiaffo. Forte. Uno schiaffo. Dai. No. No. Ce la do. No. 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 No? E perché no? Eh? Perché? Lei è femmina. Non ce la posso mai dare? Perché le femmine non si picchiano. Perché così si fa male. E perché Gesù non vuole far picchiare? Prima cosa è bellina e non glielo posso dare. Perché è una ragazza. Perché sono controlla la violenza. Si dice anche le tonne non si dovrebbero toccare nemmeno con un fiore. E perché è brutto? Oppure con un mazzo di fiori. E perché sono... Dalle un bacino. E la posso dare sulla bocca o sulla guancia? Dalle un bacino. E allora... Grazie.